Ciao ragazzi dal Teo Crack Apart, 11 aprile per un crimine al giorno, oggi non raccontiamo e non ricordiamo un crimine vero e proprio ma ricordiamo la fine presunta perlomeno di una lunghissima serie di crimini che ha insanguinato la Sicilia e non solo per praticamente 50 anni, ovvero oggi 11 aprile 2006 è stato arrestato Bernardo Provenzano, detto anche Zubinu, detto il ragioniere, detto Binu Utratturi, detto anche Upo, Orcu, si dice da quelle che sono le testimonianze dei pentiti e di tutte le indagini e i riscontri processuali, arrestato l'11 aprile 2006 dopo una latitanza durata 43 anni, per lo più svolta tutta ovviamente nelle zone non troppo lontane dalla originaria Corleone, ricordiamo che Bernardo Provenzano viene descritto tendenzialmente come il numero due, ammesso che si possa effettivamente definire il numero due, se non come dire una sorta di dumbirato costituito da Bernardo Provenzano, Zubinu e Zutotò, ovviamente Totuccio Riina, come dire, un dumbirato che ha gestito la maggior parte delle mattanze relative a tutta quella che è stata soprattutto la seconda guerra di mafia e soprattutto l'incredibile aggressione che la mafia ha portato anche allo Stato negli anni 70, 80 e 90. definito come probabilmente l'ala più moderata e rappresentante dell'ala più moderata, se per moderata si intende quell'ala un pochettino più riflessiva rispetto all'ala armata decisamente sponsorizzata da Totuccio Riina, personaggio estremamente celebre Totuccio Riina come il Provenzano che venne arrestato, pensate, in una masseria soltanto a tre chilometri da Corleone, in contrada montagna dei cavalli e venne praticamente scoperto dopo una serie di indagini fatte a lungo su quelle che sono state le intercettazioni dei cosiddetti pizzini, piccoli bigliettini che lui scambiava con la compagna, i figli, gli altri esponenti del clan, il nipote Carmelo Garifo che faceva da staffettista, come tutti gli staffettisti che gli portavano i pacchi contenenti, la spesa, la biancheria, tutto quello che gli poteva servire in quella masseria in cui fu arrestato il giorno dell'11 aprile 2006. Non fece nessuna reazione, anzi si complimentò con gli uomini che fecero il blitz e richiese semplicemente di avere le medicine, le iniezioni che gli servivano in seguito all'operazione alla prostata. Ancora una volta abbiamo un boss che viene arrestato in questo caso l'11 aprile 2006 che guarda caso appena dopo essere arrestato vedrà un aggravamento delle proprie condizioni fisiche o perlomeno sembrerebbe essere in concomitanza con una situazione di salute non particolarmente florida. Venne confermato che non ci fu l'aiuto di nessun confidente, di pentito, di nessun collaboratore esterno né di soffiata per riuscire a arrestare il provenzano. Ovviamente il proprietario del casolare verrà arrestato a sua volta, verrà prima spostato nel supercarcere di Terni, sottoposto subito al regime carcerario per l'associazione mafiosa, ovvero il carcere duro 41 bis, e poi addirittura nel carcere di Novara dopo tentativi diversi di comunicare con l'esterno, verrà aggravata la sua condizione con l'aggiunta del regime di sorveglianza speciale che gli evitavano anche l'utilizzo di qualsiasi tipo di mezzo di informazione, quindi anche televisioni, radioportatili eccetera. Il cancro alla vescica che fu scoperto a quanto pare nel 2011, quindi poco più di quattro anni dopo, in realtà lo porterà piano piano alla morte, lui inscenerà anche o proverà a suicidarsi, anche se è molto strano per un aderente alla cosa nostra di così alto in grado, insomma tentare il suicidio sembra essere, per chiunque conosca questo tipo di ambiente qualcosa di assolutamente fuori dalle logiche, in ogni caso sembrerebbe essere più qualcosa relativo alla volontà di volersi, come dire, rendere, di voler confermare l'incapacità di intendere di volere piano piano aggravatasi anche a causa della malattia, con delle scenate che possono essere vere oppure no, insomma anche negli anni che seguirono in relazione alle comunicazioni con i familiari che lo vedono in condizioni veramente fisiche e mentali sempre più disagiate, fino insomma a una condizione che lo porterà alla morte nel 2016. Bernardo Porvenzano sicuramente uno dei personaggi chiave di una storia che riguarda non semplicemente Cosa Nostra, ma anche tutti i vari rapporti di Cosa Nostra con lo Stato e anche la possibilità di aver richiesto un tentativo di pacificazione con lo Stato per finire le stragi, utilizzando le stragi anche come sistema di contrattazione per creare una sorta di controllo, di vero e proprio controllo politico da parte di Cosa Nostra sulla Sicilia, come se il controllo politico in effetti non fosse già abbastanza evidente in termini fisici da ciò che accadeva. Bernardo Porvenzano, assieme a Riina, assieme a Michele Greco, assieme a una serie di altri boss più o meno alti in rango, è stato riconosciuto colpevole di una marea di omicidi a partire da una serie di affiliati a Cosa Nostra o confidenti come Leonardo Vitale, Salvatore Anselmo, come ovviamente gli omicidi di Cristina, di Stefano Bontate, Inzerillo, insomma Calogero Zucchetto. Ce ne sono veramente di ogni fino ad aver praticamente messo assieme un display criminale di tutto rispetto fino ad avere 20 ergassoli compresi, ovviamente in ultimo anche quelli relativi alle condanne per l'omicidio del commissario Beppe Montana, così come Ninni Cassarà e ovviamente anche i giudici Falcone e Borsellino. Un personaggio decisamente, decisamente degno di nota. 11 aprile 2006, oggi si parla quindi di teoricamente della fine di una striscia criminale più che di un crimine alla botteguccia dei sigilli. Vi ricordo come al solito che trattiamo questa sera del di un vampiro umano Richard Trenton Chase con il con la compagnia e la collaborazione del pellegrino macabro e che settimana prossima inizia la nuova rubrica di cinema cinepatia in cui io e Alessandro Ponziani vi raccorderemo tutto ciò che del cinema veramente non si può non vedere. Mi raccomando, sempre presenti, ci vediamo domani con un'altra pillola di crimine o curiosità alla botteguccia dei sigilli un crimine al giorno.